ciao ragazzi buongiorno a tutti buongiorno a tutti voglio fare un piccolo video per comunicarvi che il nostro amico luca totti ha aperto il nuovo canale dopo questa grandissima ingiustizia che gli è stata fatta perché il proprio povere è arrivata da mail che pare che non gli ridanno il canale indietro senza specificare il motivo perché tanto l'italia è questa lo schifo dell'italia è questa non c'è niente a fare cioè ti mettono in galera non sai neanche perché si è andato in galera perché se io mi chiudono il canale e mi dicono ti abbiamo chiuso il canale per perché hai detto questo hai fatto questo hai detto quest'altro allora posso anche accettarlo ma chiudere chiudere un canale dove uno ci lavora da due anni da due anni ci perde il tempo ci investe il suo tempo la sua passione eccetera 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 se senza un reale motivo o anche se fosse reale questo motivo almeno dimmi dimmi cosa ho fatto dimmi invece niente da fare va bene così allora luca totti ha aperto il nuovo canale io vi metto il link qui sotto in descrizione io vi chiedo una cortesia noi non dobbiamo darla vinta a quattro stronzi non dobbiamo dalla vinta allora io chiedo veramente con tutto il cuore iscrivetevi al nuovo canale vi metto il link qui sotto deve lui deve riprendere i suoi 3.000 e quasi 200 iscritti che ci aveva nel giro di di una settimana 10 giorni io chiedo umilmente a tutti i miei iscritti di iscriversi al nuovo canale di luca totti link qua sotto in descrizione ce ne sbattiamo fate quello che volete tanto prima o poi toccherà a tutti questa a me sicuramente toccherà perché tanto quando ci hanno preso di mira ormai diamo fastidio c'è l'invidia c'è l'invidia ragazzi e l'invidia è una brutta cosa nella vita però noi non ci arrendiamo andiamo avanti per la nostra strada grazie luca totti nuovo canale link descrizioni fatemi questo regalo fatemi questo regalo e fategli il regalo a lui non vi costa nulla iscrizione in massa al canale luca totti guarda sarei la persona più felice del mondo se nel giro di una settimana lui ritorna con i suoi iscritti ormai ha perso tutti i video ha perso tutte le live live di 30 ore che abbiamo fatto senza dormire senza ci hanno cancellato tutto purtroppo è la vita ed è lo stato che noi viviamo noi viviamo in uno stato in un paese dove va avanti va avanti l'ingiustizia e non la giustizia grazie ragazzi link in descrizione luca totti clic 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 campanellina ragazzi iscrizione 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 luca totti luca totti luca totti iscrizione 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 luca totti luca totti iscrizione 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 luca totti luca totti luca totti iscrizione 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 ciao ragazzi grazie mille fatemi sto regalo grazie mille ciao